Buongiorno, eccomi, come promesso sono tornata con i miei quattro santini, qua, i quattro personaggi che vi ho messo ieri nelle stories con il sondaggio. Molti di voi non sanno di chi si tratta, ha fatto eccezione per lui, Selfridge, che ovviamente vi ho massacrato con le informazioni anche in real riguardo lui, ma voglio fare una piccola premessa riguardo questi personaggi e il motivo per cui ve ne voglio parlare. La domanda che ha fatto traballare un po' tutti è, ma Marika, devo conoscere questi personaggi per forza per fare questo lavoro? Dio, non li conosco, sto sbagliando tutto. No, tranquilli. Allora, parte tutto da una forma, un'attitudine nei confronti delle cose della vita del mio lavoro che ho sempre avuto, che è la curiosità, il sapere il perché. Sicuramente stimolata poi dalle scuole che ho fatto, nello specifico da liceo artistico, in cui ero obbligata a fare quei collegamenti tra storie e storie dell'arte, perché alcune correnti artistiche si formavano in un determinato momento. E questo me lo sono portato avanti proprio come attitudine, capire perché, che cosa ha mosso le persone a fare determinate scelte. Ovviamente, se parliamo di retail e di visual merchandising, capire il contesto sociale in cui erano inserite certe persone e perché hanno fatto certe scelte è fondamentale, anche perché il visual merchandising si basa tantissimo sulla sociologia e sulla psicologia, cioè come si comporta una società in una fase di acquisto. La mia curiosità, ovviamente, poi applicata dalla scuola al lavoro, mi ha portato a conoscere vari personaggi, varie situazioni che hanno stimolato lo sviluppo di alcune cose, come il visual, le vetrine, eccetera, eccetera. E vi porto i miei quattro preferiti, ma insomma ce ne sono molti di più. Voglio fare un attimo un appunto su questa cosa, perché il motore di tutto è la curiosità, ok? Io posso essere qui e divulgare il mio punto di vista sul visual, riportare la mia esperienza, condividere con voi quello che so e quello che studio. Questo lavoro però non è patrocinato, non è protetto da un ordine, quindi si può arrivare a fare il visual con tantissime strade diverse, non c'è una strada. Per questo vi dico, prendete quante più informazioni potete e scegliete voi secondo il vostro buonsenso. Dovete attivare il cervello e la curiosità, dovete essere voi a capire qual è la strada giusta per voi, perché non c'è un solo percorso, non bisogna per forza fare una scuola o un'altra. Come vi dicevo, non c'è un ordine o un albo. Passiamo ai miei fantastici quattro. Come vedete sono personaggi di altri periodi storici, forse il più contemporaneo è lui. Ma andiamo per gradi, sono tutte persone che hanno avuto una forte influenza per l'evoluzione del retail, delle vetrine, ma soprattutto sono state persone di importanza sociale, cioè con un'attitudine filantropica molto molto forte. E questo credo che sia stata la principale differenza. Lui per esempio, che è Francis Place, che è un uomo di fine Settecento, ad un certo punto è stato considerato un riformatore sociale. E tra queste varie cose ha guidato varie manifestazioni, proprio per portare, per migliorare la condizione sociale. Lui era un operaio inizialmente. Poi ad un certo punto ha aperto una sartoria e ha deciso di installare una grande vetrata ed è considerato uno dei primi ad aver sfruttato le potenzialità del window display, cioè della vetrinistica. Il secondo dei fantastici quattro è Marshall Field. probabilmente lo conoscete perché ha avuto un department store a suo nome e quindi è stato molto molto popolare. Quello che non sapete magari è che lui è di Chicago e aveva un negozio piuttosto piccolo sulla strada principale e nel 1871, in ottobre, quando c'è stato quell'incendio molto molto famoso di Chicago, lui ha perso tutto, lui e anche altri negozianti che erano sulla strada principale. La maggior parte di quei negozianti ha deciso di andare via, di spostarsi, di trovare fortuna altrove. Lui invece è rimasto lì, consapevole del fatto che quella società aveva bisogno di una rinascita e quindi su quelle ceneri ha deciso di costruire il suo impero, iniziando ovviamente più piccolo per diventare poi più grande. Ed è una delle persone a cui dobbiamo la centralità del cliente, ovvero è uno di quelli che ha detto per primo, il cliente ha sempre ragione e ha cercato di costruire un mondo intorno a lui. Passiamo al terzo personaggio, nonché l'amore della mia vita, che è Selfridge. A lui dobbiamo un sacco di cose del retail di cui oggi non vi parlerò nello specifico, ma sappiate che lui ha iniziato lavorando per Marshall Field e quindi è stato educato lavorativamente parlando a tutta quell'attitudine, attenzione al cliente, attenzione a che cosa volesse la gente da un negozio, da un retail, da un department store nello specifico. All'età di 51 anni, quasi pronta la pensione, va a Londra per fare un viaggio di piacere e scopre che lì sono molto indietro sul retail. Addirittura si stupisce di come non si possa girare liberamente all'interno dei negozi senza dover per forza comprare, quindi l'obbligo d'acquisto se entri in un negozio. Ma quello su cui voglio puntare l'attenzione è che lui ha reso professioni riconosciute, tantissimi ruoli occupati da donne. Ha messo la donna in una centralità professionale che non era mai successa prima, soprattutto in questo ambiente. Quindi a lui, tra tutte le cose, dobbiamo aggiungere anche questo. L'ultimo dei quattro, ma solo per una questione cronologica, è lui, Gene Moore. Cosa dobbiamo a lui? Intanto parliamo del fatto che lui ad un certo punto, uscito dalla scuola d'arte, si trasferisce a New York ed è totalmente insoddisfatto del suo lavoro. A tal punto che una storia dice che lui abbia bruciato tutti i suoi dipinti perché non era per niente contento. Dopo vari lavori fatti, finalmente approda al window display, quindi alla realizzazione di vetrine e diventa nel corso di pochissimi anni responsabile di Von Witteller. A questo punto cosa fa? Vede e intuisce che ci sono delle possibilità con gli artisti e quindi ingaggia degli artisti nascenti, tra cui Andy Warhol, per realizzare insieme delle vetrine. Poi si sposta a Tiffany e a lì nasce invece la semplificazione. Inizia a capire che servono meno manichini, più spazio e più storia raccontata. Quindi a lui dobbiamo un po' questa cosa di semplificazione nelle vetrine.